Ma insomma stiamo a guardare noi di Youtube, quanti accessi fate, quanti iscriviti ci stanno sul canale? Noi abbiamo 56, 57 Beh sono buoni, sono quelli Eh sì, sono io No, noi stiamo infami, non tornavamo a Roma, anzi non tornavamo a Roma Metto, e posso andare su a bacia mia, perché tocca spingne Perché forza spingne, sei troppo bravi, cioè non vale il caso di essere così pochi E tu che vuoi spingne? No, no, tocca spingne Cioè nel senso si tocca spingne lo Ma perché? No, no, spingne Ah, giusto, perché l'umano spingne, pur di spingere Ah, tocca spingne Promuovere Eh, quindi vuol dire promuovere Ah, brava, brava No, perché? Ah, se lo piacevo, non lo spingne E come lo spingo Lo spingo, anzi lo spingo, perché lo metto sulla bacchega Che a sua volta vedranno anche gli altri, di qualsiasi sa, vedranno che Cacchio, questi sono forti proprio Per minimo, no? Vabbè, noi con questo curve possiamo fare qualcosa per lui Eh, spingiamo Appena, appena le altre vai, spingiamo pure noi Eh, sì eh? Sì Non mi preoccupare? No, 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 spingiamo Non lo spingere già adesso No, lo spingiamo Lo spingiamo io Spingalo 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 io